Salve, vi spiegherò in pochi passaggi come è semplice rinnovare la patente. Il medico è presso i nostri uffici tutti i giorni della settimana. Per gli orari contatta i nostri uffici che ti diranno l'orario più congeniale alle tue esigenze. Cosa è indispensabile? Patente, carta d'identità e codice fiscale. Le foto le facciamo noi, quindi venite solamente pettinati. Grazie, a presto.